Il terreno era abbastanza lento all'inizio Il terreno era aperto, ho cercato di spingere il più possibile Che significato ha aperto questa vittoria? Sono felice, spero che comunque ha un forte valore e in futuro vedremo come andrà quest'estate Adesso maglia nazionale, abbiamo visto che provavate tutto l'abbigliamento in vista di cosa? Adesso il prossimo impegno con la nazionale saranno le coppe del mondo a inizio giugno che sono al confine tra la Svezia e la Norvegia e poi i campionati mondiali junior